Vice Ministro Dario Galli in visita a Mido 2019, tanta tradizione quella di un comparto solido all'occhialeria italiana, ma anche tante innovazioni e design rappresentati da un settore che ha anche un biglietto da visita per il Made in Italy nel mondo. Un commento da questo momento importante da questa fiera che è record alla sua 49esima edizione. Intanto ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato a questa manifestazione qui nel polo fieristico di Milano che è comunque uno dei più importanti del mondo e che ospita altrettante importanti manifestazioni che spesso come in questo caso risultano essere anche esse proprio le prime nel mondo, tant'è che questa manifestazione diciamo in tutto il mondo che ha a che fare con l'occhialeria e tutti l'accessoristica e non solo per il settore, è di fatto la numero uno al mondo, come possiamo dire nella sostanza numero uno al mondo è anche l'Italia in questo settore. Tant'è che se ha sicuramente una grandissima tradizione nel settore dell'occhialeria che risale comunque ormai a moltissimi decenni fa, negli ultimi anni con alcuni grandi marchi e con tutte le piccole medie aziende che fanno da contorno ai grandi marchi, l'Italia è diventata veramente leader e come quantità e come qualità. Senza fare pubblicità anche se i marchi li conosciamo tutti però vediamo tutti che la maggior parte per dire dei telefilm di qualunque tipo il personaggio di punta o comunque protagonista è sempre un occhiale che magari uno non lo sa ma è un occhiale italiano. Quindi comunque al mondo anche in questo settore il prodotto italiano è riconosciuto proprio per la qualità, il design, la capacità di innovazione. In questa mostra c'è un po' di tutto perché c'è proprio la dimostrazione proprio della potenza industriale del settore e altrettanto importante tutta la capacità di proprio innovare il settore stesso che di per sé è maturo ma ogni anno riesce ad inventarsi qualcosa con anche l'attenzione a quel po' di start up o di giovani che entrano man mano in questo settore industriale portano con la loro freschezza, la loro innovazione, le loro idee, quel po' di novità che servono per tenere vivo il settore nel suo complesso. Una cosa comunque di cui magari non tutti sono perfettamente a conoscenza ma una cosa dicevo dove come italiani bisogna essere veramente orgogliosi perché l'occhiale nel mondo soprattutto l'occhiale di qualità possiamo dire è un occhiale italiano. Allora concludiamo con un augurio in vista anche della prossima edizione che sarà il cinquantesimo anniversario di Mido e anche alla luce di quelle che sono le sfide ancora da vincere perché bisogna sempre migliorarsi e guardare il futuro in questo senso. Sicuramente questa è la 49esima quindi un numero importante però ovviamente fa da preludio la cinquantesima che deve essere assolutamente una edizione super come sicuramente sarà. Come dicevo prima non si parte da zero ovviamente perché nel settore appunto l'Italia è leader mondiale però sicuramente non ci si può permettere di fermarsi nemmeno un momento. Nel mondo ovviamente i concorrenti non mancano, i paesi che cercano di emergere qualche volta e siamo buoni magari anche copiando le nostre idee o i nostri modelli comunque ci sono. Ci sono nuovi mercati che sono altrettante sfide ed opportunità quindi credo che il paese nel suo complesso deve stare attento a mantenere il proprio livello qualitativo e di innovazione mantenendo anche uno zoccolo duro produttivo importante in Italia pur ovviamente essendo ormai totalmente internazionalizzato ma non delocalizzato ricordiamo perché comunque il design, le idee, l'innovazione resta comunque fermamente in Italia quindi capaci di mantenere questa posizione di leadership e pronto a cogliere tutte quelle grandi opportunità che sono i mercati tradizionali per cui l'Europa e il Nord America in genere dove siamo già come dire leader ma che sicuramente si possono ulteriormente ampliare e una particolare attenzione a quei mercati che sono come sappiamo in tanti altri settori mercati emergenti che sono da una parte da tenere sotto controllo per quanto riguarda il fatto di diventare concorrenti industriali ma dall'altra fortunatamente aumentando anche loro la loro capacità di acquisto quello di essere altrettanto grandi mercati potenziali in grande crescita quindi sono sicuro che il cinquantesimo di questa manifestazione proprio sancirà in maniera perfetta questa capacità italiana dei nostri produttori, dei nostri imprenditori, dei nostri proprio tecnici del settore di mantenere alto alla posizione nel mondo nel settore dell'occhialeria e mantenere proprio questo livello che forse solo noi italiani non valutiamo adeguatamente ma che nel mondo è veramente riconosciuto come un qualcosa tra le più come dire importanti a livello industriale che resta appunto il marchio made in italy che anche in questo settore veramente fa la differenza fra i nostri e gli altri prodotti grazie